Buongiorno, siamo quasi pronti per partire con il pranzo di Natale dei nostri fratelli senza dimora. 800 ospiti arriveranno nella mostra d'oltremare per passare una giornata insieme al sindaco e a tutta l'amministrazione e alla giunta. Un evento importante per noi perché è un evento che vuole rappresentare la vicinanza ai nostri fratelli senza dimora insieme a tutte le azioni che in questo momento le politiche sociali e il Comune di Napoli stanno mettendo in campo per essere più vicini alle persone che vivono in strada, ascoltare le loro esigenze e dare delle risposte concrete e fattive. È un evento organizzato dall'amministrazione di Napoli, dal Comune di Napoli, da tantissimi assessorati, dall'assessorato alle politiche sociali, l'assessorato al turismo, ai giovani, alla SIA, l'assessorato al verde, all'ambiente, alla legalità. Ma è un evento che riusciamo a realizzare grazie anche al contributo di tanti volontari, degli scout, della Croce Rossa e di tante persone che ci aiuteranno. Quindi siamo molto emozionati. Ciao!